Abbiamo parlato molto sinteticamente delle 4C, delle caratteristiche del diamante, ci sarebbe molto altro da dire, tantissime altre informazioni e nozioni, ma ci limitiamo essenzialmente a questo e a rapportare le informazioni in linea generale delle 4C al RAPAPORT e alle valutazioni che attraverso queste 4C si hanno sul RAPAPORT affinché si definisca il prezzo finale del diamante alla vendita. Come abbiamo detto anche in post passati, ci sono tantissime combinazioni all'interno del RAPAPORT, sono 16.000 le combinazioni e queste 16.000 combinazioni che si trovano nel RAPAPORT contribuiscono a far sì che si identifichi, si specifici espressamente il prezzo del diamante per ogni singolo diamante, per ogni singola caratura, per ogni singola purezza, per ogni singola qualità di diamante.